Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale Oggi impareremo a insegnare al cane il comando Resta Prima di ottenere un comando efficace come quello che state vedendo Dovete sapere che bisogna lavorare passo per passo per ottenere un risultato simile Quando affrontiamo un nuovo esercizio dobbiamo dare per scontato che il nostro cane non sa che cosa noi gli stiamo per chiedere Quindi dobbiamo metterlo nella condizione di non sbagliare Presupposto deve essere che il cane sappia il comando terra o almeno il seduto Come prima cosa dobbiamo partire da vicino Facciamo un mezzo passo indietro senza togliere lo sguardo dal nostro cane Gest, comando vocale E torniamo indietro e lo premiamo tempestivamente prima che si alzi o che se ne vada in giro Effettuerò varie ripetizioni testando il limite del mio cane Aumentando sempre di più la distanza e abituandolo a far passare più tempo Premiandolo sempre dopo e iniziando anche a togliere il contatto visivo Il lavoro è tutto sulla distanza praticamente Più il mio cane è abituato gradualmente Più passerò tempo ad allungare la distanza Più il mio cane sarà in grado di passare più tempo fermo in un luogo Più il mio cane è abituato Più il mio cane è abituato probeando Pietro Sicuramente Gerica S fine ecco Grazie a tutti.